C'è tenerlo te d'occhio. Ah, io ne ho uno qua. Quello sulla sinistra... non lo vedo adesso. A destra a terra. A destra a terra. A sotto il portale. È qua da me. Preso. Era da solo. Vai via. Via via. Sia a terra. Andiamo via. No, no. È morto proprio. Da me? Da me? Da me? Sulla porta? Non aveva armatura. Eh, l'ha chiusa dall'altro lato. Riesce a luttare? Te luta. No, no, no. È già dall'altro lato. E allora ricaricati. Ricaricati le... Kit fenici uso subito. E via. Passi. Non siamo nell'anello. Controllate la mappa. È dentro. E non ho granate. Io. È aperto la porta. Ho chiamato io il coso, eh. È sul mio lato, è sul mio lato, Frye, ok? È sul mio lato. Eh, cazzo facciamo. Apro la porta e lo devastiamo, ok? Pronto? Vai. 3, 2, 1, vai. Via. È l'ho chiamato io il coso. Ho chiuso la porta. Buongua. Eh, qua le porte sono entrambe aperte. Manzi, mancano, giungerei. C'è qualcosa da... Chiappare qua? No. Io sto salendo sul tetto, Frye. Passi forse a sinistra? Due a destra. Ti arrivano uno da dentro, mi sa? Frye? Sì. Io sto dentro, fanculo, stiamo dentro. Io sono sotto, eh. Però è che hanno spaccato entrambe le porte. Non ho granate, mannaggia. Si stanno ricaricando, si stanno ricaricando. Questo stronzo non aveva granate? Termiche. Ha granate termiche. Cazzo le prendo io. Faccio in tempo? Sì. Ha fatto zero. Ok. Appena si dissolve il fumo, li pusciamo. Ok. Forma che ho un'arma energetica, ci mette un po' a caricarsi. È la mia destra, uno. Alla sotto la granata di... Gas, mi sa, a sinistra. Vedo della roba gialla. Sì. No, no, ok, finita. Davanti a me, davanti lì. Preso. Bravo, 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 bravo. Siamo noi contro gli altri, eh. Io controllo la porta dietro. Controllo a sinistra. Siamo dentro l'anello. E' attento, Dani, non è un buon punto. Ti copro dietro. Porta chiusa! Trezzo. Bravo, bravo, bravo. Ammazzala, ammazzala. Eh, kit, finisce, coprimi. E muori. Ah, è lì sulla porta. Ok, stai facendo il giro. 3, 2, 1. Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Finalmente ho vinto, cazzo, che fatica. Avevamo armi abbastanza forti, eh. Io con quest'arma mi trovo benissimo. Io vado a dire due armi che non mi piacevano per niente, però... Gli ha dato la vittoria all'alto. Cazzo, gli ha dato la vittoria? Non ha giocato alla vitt... Niente. Non ha giocato, zero. Non è manco droppato in mappa. Non ha giocato. Bravo, strozzo. Il tempo sopravvivenuto è 13 secondi, ma vaffanculo. C'è andata di culo che, appunto, non ci hanno beccati, che gli siamo passati da dietro. E gli abbiamo fatto la morte. Il flank della vita, eh. Lì, proprio... L'abbiamo pinciati, poi gli altri ci hanno dovuto pushare. Abbiamo avuto anche culo che la safe c'è rimasta più dentro. Ah, sì, sì, era esattamente lì, proprio precisa. Però, scusa, loro potevano fare che stavano sul tetto. Eh, sì, però...